che bello sto gioco e rieccoci qua ragazzi in un altro episodio di cyberpunk a sto giro cazzeggeremo un po' e per farlo spenderemo pure un po' di soldi facendo cosa? comprando roba magica rubiamo sempre la solita macchina e vediamo dove è il ripper dock più vicino eccolo qua, no questo è maestro, il nostro, il solido, l'unico via, via oh cazzo, mi hanno visto, mi hanno visto, mi hanno visto, di corsa, via eh, cazzo, fanculo, è inguidabile troppa potenza, troppi cavalli ed eccoci qua, più o meno con quanta velocità faccio alla retromarcia? era velocissima ok da dove cavolo si entra? ah si da qui perché noi abbiamo già provato le braccia gorilla però c'erano due armi corpo a corpo diverse che non abbiamo ancora provato in particolare le lame da mantide più o meno tutti quanti erano viste quindi le proveremo per ultime ma il monocavo ovviamente non ho idea di cosa cavolo possa essere cioè, devo provarlo subito e ci sta anche il sistema di lancio dei poietti che vabbè, metteremo dopo vediamo se ci sta qualcos'altro costa un fottio la roba per le gambe quindi no grazie questo, niente beh, l'occhio per avere degli slot bonus potrei farmelo ci sta dai 10 intelligenza e ce l'avrò gratis ok, livello loro intelligenza oh si, questo è utile mi permette di ricaricarmi la salute quando sono in pericolo questo pure è gratis quindi nel dubbio lo mettiamo anzi è proprio ottimo cioè rallenta il tempo quando mi sgamano figate e quello costa quindi niente però ci fermiamo qua e continuiamo ad accumulare soldi che non si sa mai ci possono sempre servire in futuro e ora cerchiamo di capire come cavolo funziona il monocavo ma che cavolo è sta roba raga ma è una figata c'è la prima volta che lo vedo manco negli altri video e lo vedevo io c'è qualcosa qua una missione secondaria magari ah, il solito tizio a pazzo che hai da dirci oggi? ah, i reptiliani, ovvio tu possono riconoscere loro con i loro cold, blue eyes creature born centuries ago on the Antarctic ice sheet they hide their true faces under masses of human skin two-faced snakes oppressors of humanity if it's such a big giveaway won't they just install optics or use contact lenses at least if it were only so simple they are reptiles their nervous system isn't compatible with human cybernetics ooh, si, si, si why not have their own rippers invent some are you sure they haven't already? and where did this filth slither out from you ask? alfa centauri? I've said that already today they hide amidst the snow and ice of the south pole step by step usurpando our crown as creations chosen millions of years ago they evolved from dinosaurs to become the world's first advanced intelligent race and who is their progenitor? alfa centauri? the scientists of alfa centauri! sono la causa di tutti i problemi del mondo beh, beh, beh ancora vabbè, sto oggi abbiamo buttato via i soldi buttiamoli come si deve vabbè 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 ok quindi ci sta un veicolo qua la mizutani vabbè dobbiamo fare 75.000 assolutamente perché la voglio abbiamo scoperto un'altra missione secondaria che non abbiamo ancora fatto quindi questa mappa dovrà rimanere sempre pulita e dove si va? di qua a sto giro si corre anzi no la macchina ce l'abbiamo quindi mettiamo su un po' di soldi così ci possiamo prendere la nostra macchina cazzo ho sbagliato la strada inversione di marcia molto sportiveggente cazzo cazzo spari attenzione spari guardate il monocavo quanto è bello madonna ma è un'arma a distanza tra l'altro cioè è un'arma corpo a corpo però a distanza è una figata ci sono per colpire mi sta piacendo un botto sto monocavo tanto semplice quanto figo raccogliamo tutto che dopo dobbiamo rivendere perché ci servono i soldi e ce ne servono tanti ok vabbè proseguiamo a piedi tanto da qua? no da qua acceleratore sinaptico pronto saltiamo saltiamo e poi ti credo che non c'è abbastanza gente in giro cioè devi saltarla cavolo ho di nuovo sbagliato strada cioè giocando io mi distraggo troppo perché se il gioco è bello tu diverti persino a corre e non ti accorgi che sbagli strada quindi dove devo girare o forse semplicemente la mappa il resto non sembra consigliato da stare sbagliata e ti potevo andare da qua pubblicità inquietante bello abbiamo già visto però questo sì esatto allora come dire con le buone è una figata l'odoro l'odoro ma sei ancora vivo? mi sembrava strano cioè ti ho tolto tutte e due le braccia quindi un po' di domande me le stavo a fare e ora grazie per la vostra gentile donazione alla mia causa bello pure quella bandena sterza fatica molta fatica come sai come sai kabuki ha un nuovo fixer da U.S.S.R. ha been running some major biz in N.C. for a few weeks now not sure what exactly but we're going to find out non deu far miscamare it's got everything more on our comrade and the gig and the attachment ok 5 questi qua sono normali sì io due un te qua dentro mi sgami se ti entro così ok mi sa di no posso parlare con te mi sa di no ooh special delivery for Mr. Mikhail Akilov what floor am I punching apologies sir but I can't reveal any details about our clients with strangers I've been brought to provide special services for Mr. Akilov Akilov you dirty dog even bat for both teams thank you hey one sec I'll just let Mr. Akilov know you're coming hey hey what's the rush it's supposed to be a surprise present from a favorite client well you know the drill you want to do biz you gotta cough up huh interesting what the hell ok ok di qua non sono autorizzato e di qua in teoria non è meno però c'ho la capacità tecnica la posso sfruttare ok questa è zona ostile chiudi quello bloccato devo fare molta attenzione alle telecamere qua che spesso le ignoro e poi mi fregano no ho fedato due volte di fila cavolo poi mi è schiccato fuck colleghiamoci ok ok sto giro è andata bene già che ci siamo gutiamo pure magari ci sblocca una missione secondaria bonus non lo so soldi 13 ma dai che poverata uh accesso consentito ok di là non devo andare e di qua non posso quindi mi conviene fare così chiudere ed andare di qua carruccio l'ascensore vediamo se ci sono attenzione abbiamo sgammato degli asset riutilizzati sabbaku sarebbe fiero di noi ah mi sono quasi dimenticato abbiamo modificato l'occhio quindi dobbiamo mettere tutti i bonus evidenzia automaticamente i nemici vediamo la ragione dell'esplosione e il colpo critico ottimo ci abbiamo qualcosa magari pure per il monocavo non si sa mai ah no solo danni fisici vabbè ce lo teniamo così e per altre cose non ci sono bonus esatto andiamo avanti qua posso aprire ok qua si può andare ok chiudiamo beh scusa non posso ah ecco l'ha disattivato l'ha disattivato e niente mi sapevo che dovrò per forza fare le cose come si deve farli fuori uno alla volta c'è magari no voglio provare a fare le cose in maniera sicura senza lasciare niente al caso con lì ah è un normale tizio ok bravo io mi faccio i cazzi miei tu fatti i cazzi tuoi ok di qua è tutto bloccato ok oh di qua si può andare qua che ci sta di bello niente ah ci stava qualcosa mi sono preso un infarto uh però interessante attivalo attiva no mi sa che non conviene almeno non di qua e di qua invece non c'è proprio niente e invece esista qualcosa dai 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 ok bello come tu abbia otto modi diversi per fare la stessa missione tanti metodi d'approccio una cosa che apprezzo ok ok qua non c'è nessuno qua pure vediamo che ci sta di bello dati segreti codici di lancio di razzi nucleari materiale da ricatto un cazzo peccato ora con cam dobbiamo scendere là sotto cazzarola ci siamo giocati il bonus eddy tutti i miei vabbè solita roba qua qua invece niente ok forse mi conveniva passare dall'altra parte sembrerebbe di sì nel dubbio passiamo di qua ok di qua non ci vedono buono dove siamo finiti uh capace capace da tecnica 9 qua serve forza 5 ok vediamo se possiamo entrare da qua beh ci ho provato quanto è figo il monogavo mi piace troppo è ufficialmente diventata la mia arma preferita forse anche più del pompa vabbè di qua non si passa quindi si torna indietro ok ma ci sgamano proprio mentre cariamo va e invece no cazzo ci sgama sicuro e invece no rimane fermo là dai eh levati dalle palle vai via nessuno ti vuole qua ci stanno chiamando da fuori su non li senti è arrivata la pizza vada a prendere è anche buona e su perfetto dimmi che se ne va vattene vattene ok se ne è andato senti zia ti spiace se io ti piglio e ti porto in un angolino appartato in cui faremo le cose zozze ok brava faremo tante cose belle qua dietro dove nessuno ci può disturbare perfetto finito questa è arte ragazzi ricordatevelo ricordatevelo anzi per essere sicuri che non si sa mai telecamera 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 ok perfetto ora qua dietro ok steltaggine suprema e deve esserci qualcosa qua dentro tanto ma do fa un sacco di danni ma è un'arma di merda quindi no grazie ah ho già preso quello che dovevo prendere beh nel dubbio continuo a prendere roba se non vi spiace se è un peccato lasciare qua un pacchetto di patatine cose del genere no qua che c'è ah un mirino niente di che cosa c'è nere saldi liquidi molto alcolici e dati beh credo che abbiamo finito possiamo scappare possiamo scappare buttandoci giù magari non si sa mai ok perfetto pure quello che volevo le scale d'emergenza perfette per una fuga come non detto come che non posso aprirle però potrei provare a fare qualcosa di molto folle molto pericoloso la domanda è lo faccio raga io non mi son mosso ve lo giuro non mi sono mosso è caduto da solo però tecnicamente si può fare parkour là c'è in teoria dove poterci si arrampicare però vabbè la missione l'abbiamo completata non raccogliamo sta roba perché non ho voglia di rifarlo e usciamo fuori ok ok cazzo 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 ok ci siamo riusciti allora da qua come cazzo scendo ma dai non mi dire che uno può arrivare qua e poi non può più scendere ma su sembra molto triste come cosa ah ecco ah vedi ah ecco quello è il piano perché là tipo sarà bloccata qua invece no vero si qua si può proseguire ecco qual era il piano la strategia e perché quelle scale erano bloccate tutto quadra e non devo fare domande quando consegno un shared intanto volta stomaco gratis per tutti c'è qualcuno che soffre di mal di mare beh in caso ci sia mi spiace per lui madò quanta fatica quanto tempo era meglio prendere un ascensore re di qua pure non si passa ah no gioco mi stai prendere per il culo ecco ok perfetto posso alzarmi ok beh è andata bene tutto sommato dai 70 ambi cattivi per caso malvivente te invece chi cavolo sei altra malvivente diamo un po 5 147 ciao raga figata bello oh no per sveglio qui faccio un'arma di merda esatto ridami l'arma buona scusa ecco qua ridami l'arma buona bravo così si fa orecchini ti faccio un fottio ok chi è che si lamenta beh qua non c'è niente uh che nole di carne è raga non riesco a capire boh andiamo a consegnare ercippe ancora in combattimento siamo ma so già tutti morti oh a gioco non mi trolla siete cattivi ditemi di sì uh teppisti che belli vi posso uccidere tutti quanto mi piace la domanda è che tipo di arma è questa perché non si capisce se è da taglio o contundente perché non è nessuno delle due in teoria danni fisici eh boh non si capisce pugni a gorilla e su danni contundenti sicuro lame mantide sono da taglio il monokau invece non si sa che è sta roba noi troviamo roba così a caso ciao zio perfetto abbiamo fatto questo tipo di gig no hiccups quiet as a roach color me impressed contract closed a questo gioco facciamo un po' di casino che dobbiamo farci riconoscere ogni tanto nascondersi è inutile c'è altro posso vieni ragazzi tutta roba mia quanti soldi abbiamo 57 eh manca ancora un bel po' raga bene mappa vieni a me eh ma si sblocca la nuova roba ogni due secondi ah no questa è roba di prima questo invece ma è sempre il solito tizio ma dai quante volte dovremmo parlarci per ottenere qualcosa forse è meglio farci dare un passaggio a sto giro usiamo questa macchina qua si ti lascio in pace tranquilla prendo solo la macchina tu non mi servi madò che lentezza ma si sente tantissimo la pesantezza di questa roba oh cazzarola ciao raga chi è? via non capisco mai dove sono certo anzi ricompensa grazie oh mica male vendo pure un bel po' di roba ok raga e come vedete i soldi sono aumentati a 71.000 quindi manca veramente pochissimo e diamo un'occhiata alla mappa qua abbiamo fatto tutto andiamo a fare questo incarico secondario che non è un incarico ciò mettiamo un regalo né un cazzo e poi andiamo a fare pure il regalo grazie per il passaggio no guarda tu devi venire con me mi devi fare compagnia cazzo cazzo non è successo niente li ho sfiorati su ecco bravi oh no che peccato vediamo se posso entrare in qualche edificio magico qua ciao raga siete poliziotti mi sa di no si siete tiger claws che bello questo vuol dire che vi posso ammazzare tutti perfetto grazie ok la polizia non mi segue manco più andiamo a parlare col tizio pazzo schizzato male te non mi cagare grazie ah sii ah tipo il vento sempre alfa centauri ora diamo la quarta risposta quella che non abbiamo mai data non ho soldi nessuna reazione così è triste tanto vabbè andiamo a prendere un bel teletrasporto verso la nuova zona ancora e allora qual è il tuo veicolo è questo aspetta no fa vedere fermati fammi vedere la targa cioè non la targa ma la scritta di E tro per questo potrebbe anche già qua in giro per quanto lo sappiamo questo non è questo no beh molto strano fermati ti ordino di fermarti ok non è questo nemmeno ma quale cazzo è porca troia dice eh qua da qualche parte ma vaffanculo non scoperto non scoperto sta qua in giro e dove cazzo stanno sacci sti cazzi vado a fare la missione normale va non perdo tempo geronimo geronimo gente straffata alleluia beh qua che si fa ah ti bug ti bug So you are V I'm sure you heard what happened Real Shane She left a demon for you A gift from beyond the grave It should work on any third gen deck Okay, glad to grab a demon always You could test it now I have an access point If you'd like that is You might extract some shimsoft Or subroutines It seems worth a try Either way Okay, gratis Si Vediamo un po' di modificare Ok, abbiamo fatto Ping Ti pingo tutta Dove essere una specie di tutorial questo Grazie mille Ho niente di Nova per vendere? No, no, non voglio niente No, 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 ho già detto no Ciao, ciao, ciao Questa non è nemmeno una missione Se onesti Speriamo che questa lo sia Quindi andare di qua Si vola Perfetto Sono incastrato Sbaglio Ok, sbagliavo No, non mi avete visto Cos'è da un guin di shally Sperò di non shottarlo Onesternamente Ti frusto tutto Troppo bello Via qua, via qua Sto qua, vie Via c'è, via c'è Via c'è Su, su, su Su Che fai? Non fai più il duro Dove sta l'altro? Mi curo Ti ho masso Ciao Uh, pure le combo Madonna Quanto mi piace il monocavo È potenzialmente Veramente l'arma più figa Di tutto il gioco Scusa, non posso Vabbò Beh, non c'è nient'altro Mi sa O almeno non c'è nessun O almeno non c'è nient'altro Da quella parte Vediamo qua che c'è Granate Ah, quasi mi dimenticavo Dobbiamo attivare il coso Che ci cura Che se non sbaglio Si attiva il posto della granata Ah, sta già attivo Vediamo se si può attivare Posso? Ah no, probabilmente perché Non c'ho ancora nessun danno Da curare Quindi non me lo fa attivare Dati Presi Possiamo andarcene? No? Ancora no? Uh, possiamo violare la sicurezza Non so in modo che cavolo hai Però lo faccio E qua abbiamo preso pure tutto Mi sa In teoria dovemmo scendere Vero? Ora vediamo se possiamo salir E insomma ci sarà altra roba da fare Se la zona non la ripuliamo Tanto vale farlo come si deve No? Posso? Grazie Mi connetto un attimo È giusto per rubarvi tutto E andagli gay E abbiamo Fatto perfettamente tutto Grazie C'è altro? No? Qua non c'è niente di bello Buttiamoci E ora scendiamo Per prendere quello Che non abbiamo ancora preso Il computer Da qua Potevi fare stealth Però preferisco fare così Perfetto Perfetto Perché il monocavo è bello Ricordatevelo Usate tutto il monocavo Computer Roba Droga Ok quella forse no Ultima possibilità Elenco trattamenti CD Che non è mai un CD Però facciamo finta Se è un CD Anche se in realtà È solo un vinile Esistono ancora i vinili Nel 77 Cavolo Invecchiano bene i ragazzi C'è roba bella qua Scusate Permesso Faccio come se fossi a casa mia Fate finta di niente Qua qualcosa? No? Niente? Ok ci si vede Ciao Schiappo Vado via Ah ci si si Ah ci si Ah I read your mail I know what's up Well Maybe Could I interest you in a discount Everything On everything A discount For what? For pretend I don't know how you supply your parts? Yeah Yeah Ebbene In effetti Se ci da uno sconto Dai Dai Sui Tu Il basement è già forgotten Perfetto Scusate 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 Se hai bisogno Che cosa hai Giusto Giusto per Vediamo che c'è di bello Anche roba leggendaria Uh questo è molto figo Oh si C'è anche la sua versione potenziata Vabbè facciamo finta di niente Qua sempre roba inutile Ma la roba del sistema circolatorio è molto figa Tutte le resistenze Vediamo di quanto è lo sconto Vediamo le gambe che c'ha Sono sempre le solite È la madonna Regà Uno sconto del 20% Mica male Compriamo sempre da lui d'ora in poi Qua niente Qua ci sta Eh niente di che Peccato Qua magari Niente la salute non ne vale la pena Link smart Vabbè raga abbiamo fatto tutto Usciamo Ciao ci si vede Vediamo dove sta sulla marta Così ce lo ricordiamo Ok questo bisturi qua Perfetto E ora Assalto in corso Te chi sei? Amico nemico Poliziotto Amico quindi In teoria L'assalto però sta così in alto Aspetta in teoria basta che io No no Come cazzo ci arriva l'assalto? Ah di qua magari Uh Botte Botte Sangue ossa rotte Uh sei tosta ragazza Perfetto Tutti fuori Adesso Il livello di reputazione Perfetto Ormai tutti quanti mi conoscono qua Non c'è altro Non c'è altro Controlliamo Rete No niente Ok raga Fatto Leviamoci dalle palle Eccolo Eccolo E' quello E' quello E' quello No non è quello Vabbè nel dubbio prendo sta macchina a sticarsi Aspetta ma non è che è questo No 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 non è Che bello sto gioco Io non adoro ste cose C'è Newton chi? A che serve la fisica? Cioè raga Noi la frappiamo meglio Fidatevi La reinventiamo la fisica Ma quanto cazzo Difficile arrivare a quel punto Madonna Beh Si può? No sto ancora lontano Fammi rientrare Fammi rientrare Veloce 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 Posso? Dai Andiamo 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 Ciao ragazzi Ciao ragazzi Se non vi spiace Tutti morti No ne rimane uno Ok C'è Questa roba per l'occhio Che mi fa E' quello che mi hanno visto E' una combinazione perfetta Con le armi tecnologiche Fantastico Guarda appunto Cioè io sto qua Aspetta No Fammi vedere Ciao Inghianeria Ci sta gente qua dentro Ma che cazzo ho appena visto Ma invece no E' stranissimo Una roba brutta Fucile Conversazione Soldi Quanto stiamo? Abbiamo più o meno Quello che ci serve Basta che vendiamo un po' di roba E siamo arrivati In carico completato Beh raga Visto che l'obiettivo L'abbiamo più o meno raggiunto Andiamo a vedere Dove sarà il primo Del trasporto Che troviamo Sarà questo? Magari questo? O questo? No questo Mi sa che è il più vicino Perché paremmo qua Dovemmo buttarci Oppure fare giri lunghi Questo è Molto meglio Riprendiamoci la nostra macchinina Tutta un po' distrutta Cavolo Madù La difficoltà Lo sterzo Aiuto Salvatemi Questa macchina E' posseduta Perfetto C'è un deposito Qua vicino Devo trasportarmi E trovarne uno là Sì ce ne sarà Uno là Da qualche parte Quindi arrivo qua Ci avrò il punto di scambio E potrò prendere la macchina Che è quella Beh si Eh Fatevi riconto è là Mizzutani Ah ci abbiamo comunque Abbastanza soldi Vabbè la roba La vendiamo lo stesso Giusto per Perché ci abbiamo voglia Di diventare ancora più ricchi E poi ci libereremo Anche un po' di spazio Che ormai siamo A 250 di peso Mi sa Che è un bel po' Ok ragazzi Ora abbiamo tipo 82.000 Sì Quasi 83 E andiamo a prendere la macchina Oh si Cosso grazie Anche questo No no Io voglio questo Scusa Ok perfetto Grazie Ciao Ora ci continuo a parlare Da solo Nooo Ho appena scoperto Che non posso saltare Mentre sono sull'ascensore Mmm Pubblicità interessanti Perfetto Perfetto L'atletica cresce Scusa no Ma siamo scemi Quella è una roba Che possiamo fare A voi più tardi Prima Scusa Come Dobbiamo fare tutto Quel giro là Ma dai Vabbè raga Che dobbiamo fare Dobbiamo rubare Una macchina Questa andrà bene Grazie Posso Fare manovra Perfetto Andiamo a prendere Ste cazzo di macchina Che veramente Esplorazione verticale Come Cioè Non puoi nemmeno Riparci Stando già qui Devi fare tutto il giro Non così tanto Passo Uh Beh sì In effetti Qua non ci siamo mai stati Fino a mo Cioè Non per i cazzi nostri Almeno Uh Duro Dai eh Dai eh Eccola Eccola la bellezza mia E' qua Oh sì Raga Ci siamo Ora sì Che si ragiona E con questo acquisto Ragazzi Io vi saluto Se il video vi è piaciuto Fatemelo sapere Con like e commenti Se potete condividete E iscrivetevi al canale Grazie di tutto E alla prossima Ciao